Abbiamo un nuovo sheriff in città, si chiama Narwal, una nuova azienda di robot aspirapolvere già nota in America da diversi mesi e ufficialmente arrivata anche qui da noi in Europa con due modelli per la serie Rio X la versione Ultra che è quella più completa con la sua base autopulente che riesce a fare manutenzione automatica a robot e la versione Plus che è una versione un pochino più economica noi adesso vediamo questa versione Ultra, vedremo come si è comportato in questo mese di test perché ce l'ho da parecchio tempo, vi racconto un po' le sue funzioni e se in tutto questo mondo di robot aspirapolvere riesce a trovare uno spiraio per avere senso dato che comunque già sul mercato ne abbiamo un bel po' quindi direi di non perdermi in ulteriori chiacchiere vediamo cosa ci includono all'interno della confezione, tutte le sue funzioni, come pulisce per poi giungere alle solite conclusioni vediamo adesso cosa c'è all'interno della confezione all'interno della confezione abbiamo questa base Narwhal che è molto caratteristica riesce ad abbinarsi a contesti moderni tondeggiante, piccolo, come piace a noi giusto al volo magari vi dico qualche misura con il metro di Poderac abbiamo una larghezza di circa 40 cm anche qualcosina in meno altezza 45 cm e abbiamo una profondità di meno di 35 cm dovete considerare anche la parte tondeggiante che cosa ci includono dentro oltre la base? ci includono ovviamente il robot che anche lui non è affatto male ha diverse caratteristiche che vediamo adesso insieme ma prima vediamo la base la base ha anche questo display digitale che ci permette di controllare il nostro robot senza necessariamente utilizzare un'applicazione per farlo tornare a casa per pulire i mochi per avviare una pulizia e per richiamare il robot è interessante il fatto che ha qui delle maniglie laterali questo ci permette di trasportarlo agevolmente magari nel piano superiore se dovessimo utilizzarlo su una mappatura a più piani attenzione perché in tutta questa base sono riusciti a includere non solo i due serbatoi per l'acqua pulita e per l'acqua sporca da 4,5 litri e da 4,1 litri per l'acqua sporca ma vi faccio vedere qui davanti sono riusciti a includere anche il detergente detergente che come potete vedere è bello voluminoso 930 millilitri che sono tantissimi vi faccio vedere magari più da vicino si va a posizionare qui in maniera quasi nascosta e in un attimo è installato veramente a livello ingegneristico sono riusciti a posizionare tutto quanto in maniera veramente veramente intelligente abbiamo l'acqua trasparente per vedere l'acqua sporca e abbiamo il colore azzurrino blu per vedere l'acqua pulita chiudiamo tutto quanto bel lavoro anche a livello di base è perché possiamo togliere tutta questa superficie tutto lo sporco si va a recare qui dentro adesso ha avviato l'aspirazione perché presuppone che togliendo magari esca qualche gocciolina d'acqua quindi la va ad assorbire quindi questo è anche molto intelligente il maggiore dello sporco va su questo pezzo di plastica ma eventuali residui vanno qui sotto e essendo completamente smontabile facile da pulire molto molto bene devo dire anche già che ci sono il detergente il detergente è la prima volta che sento un detergente profumato che aiuta non tanto per far sentire buon odore sul pavimento ma quando andate a scaricare l'acqua sporca il serbatoio mischiato con appunto questo detergente non fa sentire molto l'odore dell'acqua sporca e fa in modo che il robot insomma non puzzi troppo a livello di robot invece che cosa abbiamo a livello di design il robot devo dire è molto carino abbiamo questa parte per la scansione degli ostacoli non è una camera che possiamo consultare abbiamo anche qui lateralmente un altro sensore in totale ben tre sensori laser per il riconoscimento degli ostacoli che gli permette di riconoscere gli ostacoli anche al buio abbiamo il coperchio qui che ci permette di accedere al serbatoio dello sporco abbiamo il pulsante di accensione il pulsante per il ritorno a casa la torretta lidar principale e attenzione perché per il sacchetto della polvere abbiamo due possibilità avete visto che nella base non abbiamo nessuno sportello per i sacchetti perché? perché la polvere viene completamente gestita dal robot loro dichiarano una dimensione qui di un litro e potrebbe anche starci ma qual è il vantaggio di questo serbatoio? che il robot al termine di ogni pulizia fa una compressione dello sporco permettendo quindi di mantenere il serbatoio sempre abbastanza vuoto fino addirittura a detta di narwhal ben sette settimane e per chi dovesse essere allergico alla polvere abbiamo qui tutti i filtri comunque che ci permettono di ostacolare includono anche la versione con sacchetto che è questa qui ce ne sono all'interno ben tre sono dei serbatoi usa e getta che una volta riempiti li prendete e li buttate questo permette a chi è allergico di evitare insomma che eventuali polveri possano dare fastidio è una soluzione che ovviamente va a produrre tanti di questi sacchetti già ve ne includono tre saranno comunque disponibili all'interno di Amazon io sinceramente preferisco questo qui perché è comunque quello più conveniente a livello di costi attenzione alle novità oltre all'aspirazione da 8300 pascal decisamente importante rispetto a altri robot qui sotto che cosa si nasconde? qui sotto si nasconde una novità a partire da vedete i panni per lavare che sono triangolari devo dire uno dei panni più puliti di sempre infatti questo tipo di robot è dotato di una tecnologia che rileva sempre lo sporco e essendo questi panni addirittura con una pressione molto alta 12 newton a differenza di tutti gli altri robot attualmente sul mercato da 6 newton quindi praticamente il doppio riesce a strofinare bene sulla base e vedete nonostante un mese di lavaggio il panno a parte la parte interna del panno che è un pochino sporca ampiamente bianca e questo fa appunto evidenziare come riesca a pulire bene i moci i moci tra l'altro una volta tornata alla base vengono essiccati abbiamo un'altra tecnologia che non abbiamo attualmente in altri robot di default ovvero la spazzola anti aggrovigliamento io in un mese questa spazzola non ho mai tolto nessun capello è veramente semplicissima tu guardandola non gli daresti un euro a questa spazzola veramente ma sono riusciti a ingegnerizzare questa spazzola in modo che i capelli e qualsiasi altra cosa non si vada ad aggrovigliare magari vi faccio vedere qualche clip di Narval dove dimostra questo ma effettivamente io in un mese non ho trovato neanche un capello né un nastro dell'immondizia niente sempre riuscito a portare tutto nell'aspirapolvere se la vedete veramente sembra una spazzola super economica ma quanto basta per essere efficace e effettivamente non far aggrovigliare quello che invece mi è piaciuto meno in questo aspirapolvere è la presenza delle doppie spazzele che ok è vero raccolgono più polvere anzi non ho mai capito perché se li tocchi è in grado di capire che le toccate quindi giro guardate io adesso tocco non so questa roba a cosa serva però è una cosa che ho notato mentre facevo manutenzione perché non mi piace perché potrebbe a volte magari che ne so andare a una tenda andare a una qualsiasi lenzuolo e aggrovegliarsi cosa che mi è successo un paio di volte magari con una singola spazzola non sarebbe mai successo evitabile alla fine basta che poi nella mappa indichi quei posti un po' pericolosi tra virgolette e lui non lo fa più abbiamo comunque i sensori anticaduta per le scale e come vedete qui c'è il sensore bianco ultrasuoni per andare a evitare i tappeti ottimo anche il sistema delle ruote che sono fatte in modo da evitare più rumore possibile infatti capita in alcuni robot che mentre fanno alcune rotazioni come se le gomme sgommassero qui invece hanno fatto delle gomme veramente belle solide che non fanno rumore altra cosa che vorrei segnalare nonostante i suoi 8300 pascal è uno dei robot più silenziosi a livello di aspirazione quasi non si sente e impostandolo al massimo è praticamente la parte corrisposta della modalità standard che ho avuto in altri robot prima di andare a vedere come pulisce vediamo l'applicazione in italiano che ci permette di andare a gestire il nostro robot a livello smart anche con gli assistenti vocali ci dice per esempio l'avanzamento della pulizia la prima cosa che ho visto quando pulisce sai a che punto è quindi se manca ancora un 30% e quindi quanto tempo impiegherà abbiamo la sezione storico che ci dice quanto ha pulito guardate quanto l'ho utilizzato veramente tantissimo e in ogni storico abbiamo la possibilità di andare a vedere un resoconto dei metri quadri puliti e delle stanze che ha controllato e pulito con il relativo tempo di durata vedete qui tutto lo storico vediamo per esempio una casa di circa 120 metri quadri comunque con tutti i mobili eccetera lui ne rileva più o meno una cinquantina calpestabile e vedete più o meno la pulizia impiega 50 minuti massimo un'ora in linea con gli altri robot che ho provato a livello di mappa abbiamo anche il modello 3d di planimetria e guardiamo l'aspetto pulizia a livello di pulizia abbiamo la possibilità adesso lo fermo così riusciamo a vedere tutte le opzioni abbiamo l'opzione aspira e lava aspira e poi lava ovvero raccoglie prima la polvere e poi va a lavare per evitare impiastri possiamo attivare la modalità solo aspira possiamo la modalità lava e personalizzata per la modalità personalizzata lui che cosa va a fare per ogni stanza ti permette di andare a decidere come si deve comportare a livello di pulizia per ogni stanza se per esempio c'è un parquet lui avendo anche un sensore che riconosce lo sporco vi permette anche di decidere il livello di pressione per evitare insomma che vada a fare problemi in lavimenti come il parquet andando in aspira e lava comunque avete anche qui la possibilità di decidere se attivare una modalità più forte più debole se deve fare più di un giro se deve fare una pulizia meticolosa se deve andare ad attivare la modalità free mode la modalità free mode che cos'è c'è anche un video qui che lo spiega la modalità free mode praticamente gestisce in automatico lo sporco capisce in automatico le stanze più sporche e dove c'è più sporche per esempio vedete effettua una pulizia doppia quindi in quella zona in automatico va a effettuare una maggiore pulizia guardate anche a livello di mopping abbiamo lo sculettamento come avviene nei dreamy che gli permette di andare a pulire essendo lui con questa versione triangolare riesce a pulire meglio possiamo gestire sia la pulizia per esempio se deve avviare la pulizia a bordo però mettendoci più tempo o se deve ad esempio attivare la modalità altitudine per esempio se è posizionato in una casa al mare lui cambia la potenza di aspirazione blocco famiglia la solita addirittura qui c'è un'opzione che non ho mai trovato in altri robot l'asciugatura può essere regolata per esempio volete che asciughi più rapidamente potete attivare l'asciugatura potente che aumenta la potenza delle ventole abbiamo anche l'aggiunta automatica del detergente la possibilità di rilevare i batteri quindi di pulire meglio i mochi la gestione degli accessori è importantissima perché oltre a darci informazioni sui vari accessori guardateci da informazioni anche su come fare la manutenzione quindi su come staccare il pezzo per effettuare la pulizia cosa che in altri robot non c'è c'è solo la possibilità magari di fare il reset faccio vedere ancora due cose innanzitutto la gestione delle mappe se io vado qui posso andare in modifica della mappa e andare a mettere tipo zona tappeti ma li riconosce in automatico per esempio qui c'è un tappeto vedete l'ha evidenziato in automatico i mobili andando in elenco mappe posso andare a selezionare la mappa da pulire se una o due in base a dove lo andiamo a posizionare vado a posizionare su mappa 1 faccio vedere anche che abbiamo l'opzione qui per vedere lo stato del nostro robot a livello di stazione base se sta pulendo se è disinfettato eccetera eccetera adesso andiamo a fare la pulizia completa ho seminato guerra sul pavimento vediamo con la modalità free mode riesce a gestire tutto in automatico iniziamo ora che cosa succede in questo momento in questo momento vedete lui parla in italiano cosa che forse ancora non ha detto nel frattempo nell'app vedete sia dove ha lavato sia dove ha aspirato dove ha aspirato è la lineetta bianca dove ha bagnato è quel simbolo più scuro vi faccio vedere qui sotto c'è anche la percentuale di pulizia e da quanto tempo sta pulendo io vi ho risparmiato la parte dell'autopulizia del moce eccetera eccetera e vi faccio vedere però l'aspetto del lavaggio bordi vedete lui sculetta e arriva sul bordo del mobile vedete io ho posizionato lì la farina un po' di briciole da qui dovrebbe essere un pochino più chiaro vedete grazie alla sua forma triangolare riesce proprio a toccare il mobile e a pulire fino in fondo certo il mocio che si estende è imbattibile riduce anche i tempi di pulizia nel frattempo vedete ha iniziato a raccogliere la farina e continua la pulizia che cosa c'è da dire su questo metodo di pulizia è un metodo efficace perché senza il braccio comunque riesce a pulire i bordi come è stato poi fatto tipo nel Dream L10S Ultra quando è stato fatto l'aggiornamento però richiede molto più tempo per quanto riguarda la pulizia potete decidere poi nell'app se farlo gestire in maniera intelligente o no intelligente cosa significa che se già l'ha fatto ieri questa procedura non lo fa anche il giorno dopo lo fa in maniera alternata notare come nonostante non abbia una telecamera visibile riconosce l'ostacolo tipo le scarpe e non l'ha neanche sfiorato ci passa vicino per evitare insomma che si aggrovigli lì sta raccogliendo l'altra farina si ricorda del tappeto quindi ci passa di fianco e vediamo anche come si comporta con i fili per esempio qui c'è un filo cosa fa vedete i fili lo evita perché l'ha evitato però quel rischio c'è stato che insomma se lo portasse con sé vedete ci gira attorno adesso è stato intelligente questa volta però sicuramente con una telecamera sarebbe stato meglio vedete adesso ha finito i bordi vedete anche che qui ha evitato il tappeto adesso inizierà a fare la pulizia interna dell'area cosa importante da ricordare di questo robot i mochi si alzano e inoltre hanno la possibilità di regolare la pressione in base al tipo di pavimento per esempio se perché potete decidere di dirgli guarda fai meno pressione per evitare di rovinarlo lui arriva fino a 12 newton ed è uno dei robot che riesce a premere di più soprattutto per lo sporco più ostinato vedete lì la farina l'ha tolta completamente manca ancora qui perché ci deve passare ma vedete come riesce ovviamente dove ci passa anche a passare sotto la scala senza alcun tipo di problema e continua a ben pulire attorno i bordi io non so dal microfono comunque se si riesce a sentire ma a livello di rumorosità questa è la modalità standard veramente pochissimo rumore sì si sembra che sta funzionando perché si sente comunque qualcosina ma veramente silenzioso uno dei robot più silenziosi mai provati con questo livello di aspirazione adesso inizia a passare sull'altra farina e sulle altre briciole altra cosa che vi voglio segnalare siccome ha una buona pressione sul pavimento se in passato avete passato il lucido in casa ecco riesce a far ritornare il lucido che avete messo con la cera perché riesce a strofinare molto bene adesso è riconosciuto che i mochi sono troppo sporchi probabilmente per via della farina vedete siamo all'86% ma è ritornato comunque alla base perché dice guarda meglio che pulisco i mochi per una pulizia più efficace quindi adesso sta pulendo ma tornerà per pulire quegli ultimi grammi lì rimasti altra cosa vi segnalo in questo momento che ha avviato l'altra pulizia sta utilizzando solamente l'opzione lavaggio non ritiene in questo caso opportuno disturbare attivando anche l'aspirazione vedremo se effettivamente sarà sufficiente che a livello di briciole effettivamente ha raccolto tutto manca solo la farina che invece quella si può tranquillamente fare semplicemente con i panni senza necessariamente andare con l'aspirazione vedremo se effettivamente sarà poi tutto pulito vedete ecco qua sta pulendo sta lavando anzi e voilà la polvere è stata quasi tutta tolta praticamente per chi se lo stesse chiedendo cosa sta facendo sta facendo prima i bordi senza scolettare e adesso sta pulendo verso l'interno ottimo comunque come evita i tappeti per evitare di salirci magari con i moci sporchi vedete lui continua altra cosa ecco che forse ancora non ho detto i moci non si staccano rimangono fissi o meglio li potete staccare ma voi manualmente e ha pulito anche l'ultima zona rimasta sporca adesso è ritornato per la terza volta comunque se avete dubbi che cosa sta facendo potete premere e lui vi dice dice questa stanza è talmente sporca che conviene pulirla per la terza volta poderack ma come è possibile 8 metri quadri e sta ancora pulendo da mezz'ora perché ha ottimato questa intelligenza artificiale che permette di riconoscere lo sporco e quindi di pulire la stanza finché non è limpida certo per evitare questo avrei potuto tranquillamente impostare io manualmente guarda pulisci solamente una volta e il gioco è fatto ma magari qualche zona sarebbe rimasta scoperta dalla pulizia praticamente con lo sporco che ha riconosciuto ha fatto tre lavaggi del pavimento impiegando all'incirca mezz'ora sentite questo rumore questo rumore avviene per andare a comprimere la polvere in questa maniera il robot non va a riempire velocemente il serbatoio considerazioni finali su questo Narwhal Freo X Ultra è un robot che arriva già con un bagaglio di esperienza nonostante sia un nuovo brand qui in Italia ha un'esperienza in America e ha delle caratteristiche molto interessanti e lui si pone come concorrente diretto del Dreamy L20 Ultra ma sarà così? vediamo gli aspetti pro e contro lui ha un livello di aspirazione superiore a 8200 Pascal con una pressione dei mochi fino a 12 newton quindi più potente da questo punto di vista di base viene venduto già con una spazzola anti groviglio certificata ed effettivamente in un mese riesce a evitare l'aggrovigliamento sia di capelli sia di peli di animali l'unica spazzola che effettivamente l'ha fatto io per esempio ho il Dreamy L20 Ultra ho preso la spazzola Tricut riesce a tagliare bene i capelli ma magari che ne so il cordino in plastica dell'immondizia a volte rimane aggrovigliato in questo caso invece non è mai successo è quindi una spazzola che nonostante la sua semplicità il suo aspetto cheap in realtà è molto efficace ha anche un bel design compatto e anche moderno il detergente da quasi un litro che praticamente non lo andremo mai a sostituire dopo diversi mesi non ha il sacchetto della polvere però ha questo sistema di compressione che permette di raccogliere bene all'interno della scatola più sporco possibile quindi non dico che arriviamo effettivamente alle 7 settimane che dice Narwhal ma per un bel po' di settimane non dovremo neanche svuotare il contenitore e quindi non saremo schiavi dei sacchetti è diciamo secondo me molto più appetibile anche a livello di manutenzione la base si riesce a pulire molto bene perché si smonta completamente e anche gli accessori del robot riescono a essere smontati bene quello che fa davvero la differenza e quindi tu dici che ha tanti altri contro rispetto il Dreamy che adesso vi dirò ha un aspetto interessante il prezzo lui di lancio 799 euro con il codice sconto che mi hanno fornito ci sarà anche un kit omaggio di accessori dal valore di 100 euro quindi insomma il prezzo del robot diventa molto competitivo che cosa ha in meno rispetto il Dreamy L20 Ultra non abbiamo le luci per vedere bene gli ostacoli né tantomeno una fotocamera per vedere da remoto per esempio i nostri animali domestici e quindi anche il riconoscimento degli ostacoli è precisa avete visto grazie a tre laser che riescono a mappare gli ostacoli però appunto la fotocamera era utile per vedere per esempio sull'applicazione dove sono gli ostacoli o per monitorare il proprio animale domestico da lontano anche qui possiamo mettere un kit per collegarlo all'impianto idrico però non so se arriverà in Italia vedremo abbiamo altre cose che potrebbero essere sistemate il sistema algoritmico è veramente miticoloso fin troppo infatti attivando l'intelligenza interna del robot capace che anche 8 metri quadri ci impiega 30 minuti per pulire ogni angolo della stanza altri robot tipo il Dreamy L20 Ultra a parte che ha il mocio che si estende quindi molto più veloce ma anche attivando un sistema miticoloso sul Dreamy ci mettiamo molto molto meno a pulire qui dovete impostare una modalità manuale se volete che non ci metta tantissimo a pulire e lavare la vostra abitazione io a realtà non lo paragonerei troppo all'L20 Ultra perché c'è troppa differenza per esempio non abbiamo la possibilità di staccare i moci come nell'L20 Ultra e l'algoritmo è molto fiscale se per esempio avete fatto la prima mappatura e una porta era chiusa e poi la aprite in altri robot magari viene aggiunto quel pezzo mancante qui bisogna rifare la mappatura quindi non compete secondo me con Dreamy L20 Ultra per le funzioni ma al massimo per il prezzo perché lui di fatto attualmente costa la metà se dobbiamo proprio fare un paragoni con Dreamy o qualsiasi altro brand giusto perché ho portato qui sul canale direi che è tipo un L10 Prime ma più avanzato perché a livello di dimensioni siamo lì ma a livello di funzioni sicuramente è più avanzato rispetto a quello anche se il costo è leggermente più alto allora sì lì effettivamente possiamo definirlo killer con l'L20 Ultra invece c'è ancora tanto da fare in ogni caso se siete interessati vi lascio il link qui sotto in descrizione con il codice sconto fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima ciao